Buongiorno a tutti benvenuti all'aggiornamento mensile di Edge Invest Numen Credit Fund il fondo ha avuto una performance molto molto buona nel mese di maggio del 4.1 per cento il maggiore driver di questo ritorno è stato un portafoglio diversificato di posizioni lunghe nel credito soprattutto europeo ma anche americano nello specifico circa l'1.3 per cento è stato generato da una posizione lunga su obbligazioni subordinate di Monte dei Paschi la banca ha ricevuto nel mese l'approvazione da parte della Commissione Europea per la vendita di una buona parte del portafoglio di crediti deteriorati allo Stato e questo ha chiaramente creato beneficio al prezzi delle obbligazioni. Il secondo driver è stato una posizione lunga su obbligazioni governative di Cipro, vediamo Cipro come forse l'obbligazione governativa con il rendimento più interessante quando comparato con il rischio di credito del governo e anche l'obbligazione a beneficiare maggiormente dagli acquisti della banca centrale europea in quanto molto illiquida e questa posizione ha generato circa l'1 per cento. Il terzo driver è stato un portafoglio di posizioni lunghe sul credito di società nel settore delle telecomunicazioni nello specifico che ha generato circa un altro 1 per cento, un misto di posizioni lunghe sui convertibili di DISH, obbligazioni secured di OE Brasil e posizioni lunghe tramite CDS su Altis, SFR e Virgin Media. Il resto della performance circa l'1 per cento rimanente è stato derivato da un misto tra guadagni su posizioni di stress soprattutto nel settore del biotech e guadagni su azioni di società che a nostro avviso beneficeranno maggiormente dal ciclo di investimenti, chiamiamoli verdi in Europa e inoltre l'ultima componente sono appunto perdite su posizioni corte su mercati emergenti tramite CDS soprattutto su Sudafrica, Turchia e Brasile. Al momento rimaniamo posizionati lunghi su posizioni core strutturali del nostro portafoglio, soprattutto nel settore delle telecomunicazioni e manteniamo ed aggiungiamo posizioni su obbligazioni soprattutto distressed su società che chiaramente sono state molto colpite dalla crisi ma che pensiamo abbiano diciamo una via d'uscita sia da un punto di financing o da un punto di recovery della profittabilità da qua ai prossimi 3-6 mesi, mentre intanto che l'economia pian piano ritorna a funzionare, mentre dati i livelli che ha raggiunto il mercato su vari assets che a nostro avviso sono estremi, cominciamo quindi ad acquistare posizioni in hedging soprattutto tramite indice CDS ma anche posizioni short su asset di bassa qualità soprattutto nel settore equity, chiamiamolo value, che hanno raggiunto posizioni, valutazioni che secondo noi sono non sostenibili e oltre a questo rimaniamo anche short su emerging market che pensiamo abbiano problemi strutturali come appunto Brasile, Sudafrica e Turchia. Grazie 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 Grazie